Bene, allora andiamo al punto 3. Interrogazione del gruppo consigliare Misto su spese all'accesso a documentazione ufficio tecnico. Consigliere Giorgio Caselli. Sì, qui mi è arrivata una segnalazione per cui io chiedo appunto se è reale o meno. Qualche tecnico mi ha riferito che ci sono delle spese leggermente elevate rispetto a altri comuni. Questo per chiedere accesso alla documentazione agli atti d'ufficio, ufficio tecnico comunale. Mi dicono che si spendono 30 euro mentre a Ventasso e a Villa Minozzo pare siano 10. L'accesso tramite PEC come gli altri comuni. Le copie dal nostro ufficio non verrebbero inviate ma debbono essere fotografate con telefonino o scanner portatile. A Ventasso, tanto per citare un altro comune, viene effettuata la scannerizzazione di tutti gli atti esistenti e inviata sempre per PEC al tecnico richiedente, senza alcuna spesa aggiuntiva. Innanzitutto chiedo se è vero quello che mi è stato riferito e poi chiedevo se risponde al vero, se è possibile adeguarsi a quello che è un trattamento migliore degli altri comuni limitrofi. Anche perché poi chi paga è sempre il cliente perché il tecnico comunale fa le richieste, paga e poi dopo ha debita a chi non ha bisogno. Grazie. Grazie, risponde Daniele Valentini. Allora, mi sono consultato con Ruffini che è responsabile del settore. Adesso provvederemo a regolamentare anche noi, siamo un po' in ritardo, ma provvederemo a regolamentare anche noi la possibilità di ottenere le copie in modo digitale tramite PEC in modo tale che i tecnici non debbano venire qui, abbiano tempi di attesa minori e anche l'ufficio possa organizzarsi a tempo e modo. Per quanto riguarda il confronto con le spese rispetto agli altri comuni, sono sincero, io non so quanto pagano negli altri comuni, però sicuramente qualcosa pagano. Però provvederemo ad allinearci, ecco nel senso non penso sia un problema allinearci a quanto si spende a Ventasso, a Villa o a Carpinerio, a Toano, in modo tale da non gravare eccessivamente, come hai detto tu, sulle tasche del contribuente, perché alla fine non pagano i tecnici. Poi che le copie qui debbano essere fotografate con telefonino o scanner portatile, io so che questo avviene, però devo dire la verità, non so bene se avviene per volontà dei tecnici, oppure dubito che venga per volontà dell'ufficio, ecco, cioè se un tecnico chiede all'ufficio di avere estrazione di copie degli atti, gli viene fornita una fotocopia. Poi se il tecnico chiede di avere accesso agli atti, li fotografa, questo è un altro discorso. Ma sono certo che se si chiede all'ufficio tecnico estrazione di copie, la copia viene fornita attraverso una fotocopia, ecco, sostanzialmente. Però sì, anche noi siamo, anche parlando con Ruffini, anche un po' per invitare, per caldeggiare alla transizione digitale, spingeremo a breve termine perché i tecnici utilizzino il più possibile le PEC e le richieste digitali e informatiche. Ottimo, sono soddisfatto della risposta perché tra l'altro hai detto che in pratica si cercherà di adeguarsi e di migliorare il servizio. E quindi in pratica vuol dire che è un accoglimento di quello che noi abbiamo segnalato. Ovviamente il tutto si inserisce nel progetto che abbiamo avviato l'anno scorso di digitalizzazione completa di tutto l'ufficio tecnico. Come voi sapete noi abbiamo un dipendente di un ufficio tecnico che abbiamo assunto appositamente che sta digitalizzando tutte le pratiche che sono 20.000, 19.000 o 20.000 pratiche dell'archivio e dell'edilizia in modo tale che dopo sia tutto digitale e anche la consegna delle nuove pratiche vi sia una transizione completa in modo tale da far sparire il cartaceo, far sparire gli archivi cartacei e tutto il resto. Bene.